La riabilitazione vestibolare è una riabilitazione molto particolare, è molto nota possiamo dire all'estero rispetto che in Italia perché c'è una cultura diversa ad esempio nei paesi anglosassoni per quanto riguarda la gestione della patologia vestibolare. Esistono delle figure dedicate che sono dei terapisti della riabilitazione per cui in questi paesi è molto più scoperto. Purtroppo in Italia non è così nota anche se è un tipo di riabilitazione che potrebbe essere applicato a moltissimi campi, a moltissime patologie non solo necessariamente vestibolari ma qualsiasi patologia coinvolga tutta la componente di equilibrio, tutta la componente posturale e anche delle la coordinazione e se vogliamo andare a fare anche i precisi, tutta la componente emotiva collegata al movimento. L'equilibrio che cos'è? È un elemento fondamentale per la vita quotidiana, per la vita di tutti i giorni ma anche per la vita dell'essere umano perché permette il movimento e l'interazione con l'ambiente. Quindi è un elemento essenziale ciò che ci permette di muoverci e ciò che ci permette di interagire che se pensiamo alla nostra giornata tipo normale è esattamente la prima cosa che facciamo da quando ci alziamo a quando torniamo a letto. La sintomatologia riferita del paziente può essere ricondotta alle definizioni di vertigine, di disequilibrio, di disness, di atassia e di oscillopsia. La riabilitazione vestibolare riveste un ruolo fondamentale per il paziente affetto da disturbo dell'equilibrio, poiché rappresenta un imprescindibile supporto nel recupero della funzione vestibolare, supporto che può essere di tipo parziale o completo, è supporto che viene mediato da strutture centrali che quindi interagiscono con il tono vestibolare. L'obiettivo che si prefigge la riabilitazione vestibolare è quello di favorire i naturali meccanismi di comprenso. I tre meccanismi dinamici sui quali interviene sono l'adattamento, l'abitudine e la sostituzione. La terapia riabilitativa vestibolare mira alla rieducazione dell'oculomotricità, alla rieducazione della postura e della marcia, oltre che delle funzioni cognitivo e emotivo comportamentali. Il paziente che riferisce vertigine e che giunge all'osservazione clinica può essere portatore di una condizione di rischio grave, ma potenzialmente trattabile. In acuto la diagnosi primaria di tipo differenziale è quello dalla sindrome vestibolare acuta, cioè il deficit vestibolare acuto versus stroke. La valutazione clinica o con un minimo supporto strumentale presenta una precisione diagnostica superiore all'imaging condotta attraverso tomografia computerizzata e risonanza magnetica. La TAC in questo caso risulta molto raramente utile. Presentando un'accuratezza dell'88%, è un valore predittivo o negativo che raggiunge il 99% dei casi, con una precisione diagnostica superiore all'ATAC e alla risonanza magnetica. Viene definita come una terapia fisica volta a ripristinare le funzioni vestibolari che sono state alterate da vari fattori, quali invecchiamento, patologie vestibolari, farmaci ototossici, traumi cranici o cause non note. Utilizza delle tecniche che sono basate sul movimento, e quindi sempre una partecipazione attiva del paziente. Queste tecniche sono finalizzate a favorire quella che viene definita la compensazione vestibolare. La riabilitazione vestibolare può essere fatta in tutti i casi di vertigine o di desequilibrio, quello che dicevo prima. Non solo in patologie vestibolari, ma anche in patologie centrali, neurologiche, in patologie muscoloscheletiche, nell'invecchiamento, perché tutte queste patologie possono avere vertigine di desequilibrio. Quindi se io ho un sintomo, posso fare la riabilitazione vestibolare. Vediamo invece quando non fare riabilitazione, o meglio, quali sono le controindicazioni a eseguire dei movimenti riabilitativi per la parte vestibolare.